Buonasera amici e amiche di Nova News 24. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno detto sì. Dopo vari cambi data, dovuti anche allo stato di salute di Eleonora Giorgi che ha scoperto di avere un tumore al pancreas, oggi venerdì 12 luglio 2024 i due ex geffini si sono giurati amore eterno. A fare da sfondo alle nozze, un luogo molto caro allo sposo, la coppia ha infatti deciso di sposarsi a Forte dei Marmi, proprio dove i suoi genitori, Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, si sono conosciuti e innamorati ai tempi del set della saga di Sapore di Mare. Moltissimi gli invitati al matrimonio, che sui social hanno condiviso gli scatti della festa e dei propri look. Clizia Incorvaia sposa Paolo Ciavarro, le nozze oggi a Forte dei Marmi, l'amuleto regalato da Eleonora Giorgi, i due romantici abiti da sposa e il ruolo dei figli dell'influencer. Le prime foto trapelate dai social vedono un Edoardo Donnamaria in ottima forma, con un elegantissimo vestito scuro e cravatta blu, e già Ele Dedona con un vestito verde anche lei elegantissima. Amici e amiche diteci cosa ne pensate, se vi è piaciuto l'articolo mettete il pollice in su e seguiteci e seguiteci sempre su Nova News 24.